Musica Più attenzione ai problemi del Salento. Dall'hotel Tiziano, dove ieri si è svolta l'Assemblea dei Giovani del Partito Democratico, che chiedono criteri chiari di selezione dei candidati, al segretario regionale del partito, Michele Emiliano, è arrivata anche l'esortazione dell'assessore Loredana Capone, che ha richiamato l'attenzione sui temi scottanti come la xylella e il sociale. A Emiliano ha scritto una lunga lettera aperta a Ernesto Abaterusso, la cui candidatura al posto del figlio Gabriele, condannato per bancarotta, ha innescato le polemiche nei giorni scorsi sulla selezione dei candidati del Partito Democratico. L'ex deputato del PDS ha proposto il tema xylella e quello della sanità, ha definito indecente il ritardo con cui la regione si è mossa per risolvere il problema della moria degli ulivi, chiedendo provocatoriamente se tale assenza non fosse dovuta al fatto che l'infezione interessa solo il Sud Salento. Non ho dubbi a sostenere la proposta dell'onorevole Palese, ha scritto Abaterusso citando il parlamentare di Forza Italia, cioè la proposta di una legge nazionale, come è accaduto sempre per le grandi calamità, che fornisca gli strumenti adeguati a bloccare l'infezione e a far rinascere un territorio che rischia la desertificazione. Il primo giorno della tua elezione, caro Michele, scrive Abaterusso, vieni tra gli ulivi del Sud Salento e dopo corri a Roma per imporre le ragioni dei salentini. Riguardo alla sanità, Ernesto Abaterusso chiede a Emiliano cosa abbia fatto la regione riguardo agli ospedali chiusi e per evitare il sacrificio di posti letto. Chiede che siano inseriti questi temi nel programma di governo e propone che il nuovo ospedale da costruire nella provincia di Lecce sia localizzato in un'area tra Nardò, Galatina e Copertino, area ad alta densità di popolazione, dove un ospedale è stato chiuso a Nardò e altri due a Copertino e a Galatina si trovano in condizioni precarie. E ancora Abaterusso chiede di migliorare il nosocomio di Scorrano che, scrive l'ex parlamentare, oggi è un ospedale importante nella provincia di Lecce. Queste le richieste. Domani, nell'ex cinema Santa Lucia a Lecce, sarà presentato il patto per il Salento proposto dalla segreteria provinciale, ora impegnata nella guerra alle scelte di candidati su base dinastica, come appunto Ernesto Abaterusso. Renziano della prima ora. È superata, è superata ormai la prima, la seconda, la terza ora. Matteo Renzi è il presidente del Consiglio, è il sede nazionale del partito, quindi ora bisogna lavorare tutti insieme per fare forte il partito democratico. Perché qua, come ormai diciamo da qualche settimana, qui c'è un vero e proprio derby tra chi vuole sfasciare tutto e chi invece vuole costruire, dando fiducia, dando speranza, ma principalmente già facendo le cose. Al di là degli 80 euro che gli italiani già stanno ricevendo nella loro busta paga, è un governo che in meno di due mesi già ha fatto tante cose, per cui diamo fiducia a questa nuova classe dirigente che sicuramente ci porterà fuori da questo brutto momento a livello italiano e a livello europeo. Ancora sangue sulle strade salentine. Sono due le vittime di quest'ultimo weekend invernale. Si tratta di Cosimo Melorio, 39enne leccese, e Davide D'Aquino, 35enne di Casarano. Entrambi giovani ed entrambi morti sul colpo hanno perso il controllo dei mezzi sui quali viaggiavano, andando a schiantarsi, nel primo caso, contro un cumulo di materiale di risulta dei lavori stradali sulla Lecce Vernole all'altezza dello svincolo di Strudà, nel secondo caso, contro un muro di recinzione nei pressi della via provinciale che conduce a Collepasso. Due le famiglie disperate, D'Aquino, lascia una moglie incinta e una figlia di 4 anni, davanti a simile tragedie, pare d'obbligo interrogarsi su come possano evitarsi. Basta davvero poco per rovinarci la vita, una distrazione, il poco rispetto del codice stradale è spesso l'incoscienza, tipica soprattutto dei giovani. Ed è proprio da loro che bisogna partire per far sì che queste disgrazie non succedano così spesso. Prevenzione e tanta informazione nelle scuole possono, se non eliminarlo del tutto, certamente diminuire il rischio di sinistri mortali. Ed è quello che cerca di fare la Polizia Stradale di Lecce, che quasi ogni giorno, attraverso degli incontri negli istituti scolastici medi e superiori della provincia, insegna l'educazione civica a ragazzi. Sono due, in particolare, le iniziative promosse dalla Polizia, ossia il Progetto Icaro e il Peer Education. Entrambi vogliono rieducare giovani ad una guida attenta, promuovendo il valore assoluto della vita, anziché puntare sullo sparacchio della multa. Gli autovelox e rilevatori di velocità non sono certo una soluzione al problema, perché, come ricorda Lucia Tondo, capo della Polizia Stradale di Lecce, il guidatore tende a decelerare solo in prossimità dell'apparecchio. Per cambiare le cose bisogna rispettare le norme, ricordarlo agli adulti ed insegnarlo ai nostri ragazzi, continua la dottoressa Tondo. La causa principale degli incidenti rimane purtroppo l'errore umano. Schianto mortale sulla Taranto Bari. L'impatto tra una Ford e un autocarro si è verificato intorno alle 22 di ieri sulla Statale 100 all'altezza di San Basilio nei pressi di Mottola. pare che l'autovettura abbia tamponato il mezzo pesante che usciva da una stazione di servizio dopo aver fatto carburante. A perdere la vita è stato l'uomo a bordo della Ford Nicolà Lorusso, 44 anni, originario di Altamura, residente a Gioia del Colle. Sull'accaduto indaga la Polizia Stradale. Sparatoria in via Regina Sforza a Capurso. Un uomo di 46 anni Onofrio Pentassuglia sorvegliato speciale è stato ferito alla schiena da un colpo esploso con un fucile caricato a pallini. L'uomo è stato soccorso e trasportato al di Venere dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Trigiano. Assaltato con una pala meccanica il supermercato Eurospin situato in via per Torre Santa Sabina a Carovigno. È successo intorno alle 4 di questa mattina quando 4 malviventi hanno forzato la porta d'ingresso dell'area parcheggio con l'ausilio di una ruspa. Una volta all'interno del locale sono possessati della cassaforte contenente circa 42 mila euro. All'arrivo della guardia giurata richiamata dall'allarme del supermercato collegato con la Svevialpol i ladri hanno sparato ai militari fortunatamente senza ferirli per riuscire a scappare. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia locale. Al via da oggi anche a Lecce l'undicesima settimana d'azione contro il razzismo organizzata e promossa da UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e che si concluderà il prossimo 22 marzo. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione contro tutte le forme di razzismo e di intolleranza con l'obiettivo di promuovere i valori di una società aperta e inclusiva fondata sul dialogo interculturale. All'iniziativa ha aderito anche il Comune di Lecce che è pronto a fare la sua parte grazie soprattutto all'impegno e alle attività dei bambini. Saranno loro gli autentici protagonisti i portatori del messaggio di solidarietà che è pronto a fare il giro d'Italia per sensibilizzare l'opinione pubblica. Tante le iniziative all'interno di un programma unitario chiamato Disegniamo insieme il futuro nel giardino delle fiabe e dei giochi del mondo. Il vice sindaco di Lecce Carmen Tessitore sottolinea l'importanza del progetto rimarcando nei valori fondamentali il suo significato e la possibilità di costruire il giardino delle fiabe e dei giochi del mondo in un'area verde da decorare con installazioni ispirate alle fiabe italiane e straniere ed è proprio questo il sogno che inseguiranno i bambini leccesi. Ci sarà la possibilità inoltre di proporre l'inserimento di personaggi fiabeschi per personificare la convivenza pacifica e il dialogo tra culture all'interno di un'app pensata dai bambini e destinata ai bambini stessi. Appuntamento oggi nella sala polifunzionale Open Space di Palazzo Carafa con il consiglio comunale dei ragazzi poi tutti in piazza Santoronzo vicino all'albero di Olivo simbolo e orgoglio della nostra terra messa in pericolo dal parassita della Xilella è simbolo anche della pace universale una pace minacciata dai sentimenti di discriminazione e di razzismo sull'albero tante matite colorate e un nastro arancio le matite di tutti i colori intendono esaltare il valore della differenza arancio invece è il colore scelto per la campagna di sensibilizzazione un gesto forte e simbolico allo stesso tempo sono i bambini infatti a disegnare il loro stesso futuro che nelle loro mani non a caso nel logo dell'iniziativa trovano spazio tante mani colorate presenti anche numerosi immigrati grazie alla cooperativa raggio di sole una presenza gioiosa e calorosa quasi a certificare la nutrita presenza in città di cittadini stranieri continuano gli appuntamenti organizzati dalla Dance Forever Academy di Lecce con Stage Top Class un ciclo di incontri di approfondimento di diversi generi di danza con affermati coreografi nazionali e internazionali ieri workshop di Mother Jets con Roberta Fontana direttamente da Loyals di Roma docente e insegnante a importanti masterclass in Italia e in Europa Il Lecce ormai calato nel clima di Quaresima si offre a un'altra penitenza e anche in Calabria osserva il digiuno di gol Al Cosenza ne basta uno per vincere Il Lecce comincia bene la partita nella quale deve riscattare la sconfitta interna con la Salernitana al secondo minuto Lopez imbeccato da Gomez chiama in causa Ravaglia nove minuti più tardi il 26enne Eleelio Calderini semina i giallorossi e con un diagonale su cui Caglioni non arriva rende il suo piede degno di onori in stile giovedì santo è l'unica occasione creata dalla squadra di mister Roselli ma è bastata per vincere il Lecce sfiora il pareggio al diciottesimo ma alla testa di Abruzzese viene negato l'alloro dall'attento Ravaglia la squadra Salintina si impegna ma non risorge neanche al 25esimo quando Embalo cerca il gol dal limite dell'area poco dopo un atterramento o dubbio in area di rigore ai danni di Moscardelli nel secondo tempo mister Bollini si affida a Gustavo mandato in campo al posto del deludente Manconi al 14esimo il brasiliano offre un invitante palla Mannini che però non c'entra lo specchio della porta i giallorossi provano a pareggiare aggiungendo la quarta punta Miccoli accanto a Moscardelli Gustavo e Dembalo quest'ultimo alla mezz'ora prova a servire il piatto vincente ma trova il solito Ravaglia l'ultimo sussulto Salentino e un tiro di Miccoli dopo il novantesimo ma il risultato non cambia e sancisce la seconda sconfitta consecutiva del Lecce squadra che evidentemente può essere associata senza timore di commettere peccato alla parola Crisi di Miccoli non cambia non cambia Grazie.